Sì, ci sono. Ok, benvenuti a questo evento dal vivo. Mi chiamo Alberto Livucci, sono qui nella sede di MacroLibrarsi per passare con voi circa un'oretta e esporvi questo argomento che sta a cuore a me e a tanti, tanti piccoli e grandi produttori biologici. Ok, abbiamo ancora qualche problema in regia? No? Tutto ok? Bene. L'argomento di oggi riguarda qualcosa che sta alla base di tutta la produzione e di tutta l'alimentazione moderna. E' il problema delle sementi. Noi abbiamo da tempo delegato la produzione di sementi alle grandi multinazionali dell'agrochimica. E questo ha prodotto però degli effetti, degli effetti notevoli. Innanzitutto ci ritroviamo le tavole invase da sementi modificate. Ma l'altro aspetto che è ancora più dannoso, non solo per l'alimentazione, ma anche perché noi agricoltori, cioè tutti i contadini del mondo ne sono coinvolti, c'è stata una strage di biodiversità alimentare. Ed è da questo che nasce un movimento che ormai si è sparso in tutto il mondo, che genericamente viene chiamato il movimento dei seed savers, tradotto in italiano con salvatori di semi o custodi di semi, un movimento che ha come scopo quello di salvaguardare e ripristinare nei campi questo grande dono che la natura ci ha fatto, che è la biodiversità agraria. Per aiutarmi nell'esposizione di questo argomento userò anche qualche slide, qualche depositiva. Se siete pronti anche voi a passare la prima. In Italia il movimento che si occupa di salvaguardare i semi, uno dei movimenti, il primo sì, ma anche il più organizzato, è civiltà contadina. Ci definiamo custodi di sementi, a salvaguardia della biodiversità orale. L'immagine che vedete in sovrimpressione, che è quella di due mani che contengono un pugno di sementi, sta proprio a simboleggiare il ritorno a... Così come è stato da sempre, nei secoli, gli uomini, le donne, da quando c'è stato l'avvento dell'agricoltura sanziale, hanno in qualche modo gestito, posseduto, elaborato, selezionato i propri semi. Se li sono scambiati liberamente, non sono mai stati oggetto di particolari commerci e soprattutto questi semi sono stati sempre liberi da ogni vincolo di copyright e di brevetto. Purtroppo non è più così. Intanto quello che è importante è sapere che cosa abbiamo perso. E quindi passo alla seconda slide. Relativa ai 50 fagioli italiani. Nel 2000, Civiltà Contadina, partì con le prime esperienze di salvaguardia. E riguardarono appunto... Il primo anno riguardò appunto i fagioli. Questa tavolozza con 50 fagioli imbanditi sopra, e questi sono fagioli tipici del nord Italia, è una scelta, diciamo così, un'opzione che non troverete mai nei grandi circuiti in cui oggi viene distribuito il cibo. Cioè la grande distribuzione organizzata non avrà mai in esposizione e in vendita tutta questa ricca scelta. E voi pensate, sono solo 50. Si stimano circa in almeno un migliaio le varietà presenti in Italia circa un secolo fa. Purtroppo di tutte queste varietà, una buona parte, almeno la metà, sono da considerarsi perdute e stinte. Ma la biodiversità di fagioli non deve stupirvi, perché se è vero che in Italia si calcola circa un migliaio di varietà, nel mondo, sul pianeta, qui passiamo alla terza slide, la biodiversità di fagioli, ne esistono ben 3600 varietà e sono stati selezionati dai contadini nella lunga storia dell'agricoltura. Se voi, chiunque, possa invece andare e accedere a un supermercato, di solito nelle scansie troverà al massimo di tutti questi fagioli una, due, fino forse anche a cinque varietà, se è fortunato. La biodiversità non è gestibile dalla catena distributiva della grande distribuzione. Ha bisogno di una rete, piuttosto di una rete di agricoltori che se ne prenda cura. Ha bisogno di contadini che abbiano la possibilità di scambiarsi fra i loro semi e di continuare ancora il lavoro di sviluppo delle varietà. Purtroppo questi due ultimi fatti di cui ho parlato sono diventati, fra l'altro, in buona parte illegali, in quanto gli agricoltori, se si rivolgono alle reti commerciali, troveranno difficoltà a reperire semi simili a quelli che ora vi sto mostrando, ricchi di colore, ricchi di sapore. E ricchi anche di storia. Troveranno in commercio varietà sicuramente più evolute, sicuramente spacciate anche per più produttive o più resistenti, ma purtroppo sono varietà che sono state sviluppate anche per un sistema agricolo più moderno, che ha bisogno quindi di antiparassitari e di colcimi chimici. Le varietà più antiche non avevano bisogno di tutto ciò, perché sono varietà sviluppate con sistemi di agricoltura tradizionali e quindi si accontentano di terreni sicuramente più poveri, terreni quindi non concimati chimicamente, e soprattutto hanno delle buone produzioni anche in condizioni difficili, perché hanno dovuto nel tempo patire queste difficoltà che sono diventate anche una forma di selezione naturale. Continuiamo a vedere la biodiversità anche di altre piante, come ad esempio il mais. Nella slide che vi mostro vedete spighe di mais provenienti da un po' tutto il pianeta. Il mais sappiamo benissimo che proviene dalla zona, praticamente dalle Americhe, in particolare il nucleo in cui si trova lo stato, in cui si trova più biodiversità di mais, è il Messico. E lì il mais viene coniugato in questo modo, cioè in tante forme colorate, ben diverso dal mais purtroppo industriale, che ha di solito un unico colore, quello giallo. Ma il vero mais è questo, vario pinto, ricco di colori, sì, ma anche ricchissimo di sapori. E anche di usi particolari, tipici. Diciamo così, nelle mani dei silver del mondo esistono circa 450 varietà. Molte di più sono contenute nelle banche semi. E anche nelle mani dei contadini, se vogliamo, di tutte le Americhe. In Italia, nel nostro, diciamo, catalogo delle sementi ammesse alla vendita, cioè quello ufficiale, quello dal quale possono attingere sementi i nostri agricoltori, ne troviamo solo 150 varietà. Scusate, stavo leggendo mai la slide. In Italia esistevano 150 varietà di mais prima dell'avvento di questo catalogo. A tutt'oggi, di queste varietà antiche, italiane, tipiche, solo una è ancora regolarmente commercializzata. Se ne possono trovare, probabilmente, ancora altre decine, un elenco più, diciamo, più preciso. Non riesco a farlo, ma posso presupporre intorno alle 50 varietà ancora sono presenti. e si stanno comunque nuovamente ridiffondendo, anche grazie al fatto che sono varietà molto più saporite dei mais in vendita. Soprattutto per il mais abbiamo, diciamo, il grave problema che gli agricoltori che seminano mais, di quello, diciamo, commerciale, non hanno la possibilità, poi, di riseminare il prodotto dei propri campi. devono, obbligatoriamente, ogni anno, ricomprare la semente. Questo è tutto il fatto che oggi tutte le sementi immesse in commercio sono ibridi F1. Cioè ibridi che, in pratica, non hanno la possibilità di essere riseminati, in quanto nella seconda generazione perdono moltissimo della loro produttività e quindi risultano non più convenienti per gli agricoltori. Quindi si è creato un mercato capzioso, un mercato prigioniero. Le ditte sementiere, con la tecnica dell'ibrido, costringono di fatto gli agricoltori a perdere la loro propria indipendenza in fatto di semi, a dipendere completamente da quello che gli offre il mercato. Altro slide riguardo il pomodoro. Anche qui vedete una tavolozza di pomodori di, si può dire, di ogni forma e colore. È stupefacente scoprire che esistono non solo pomodori rossi, ma anche rosa, violetti, neri, ma anche gialli, arancioni, addirittura anche bianchi. Ad ogni colore chiaramente corrisponde un particolare sapore. Nel mondo si calcolano circa 4100 le varietà di pomodoro esistenti. In Italia esistono 323 varietà commercializzate, ma di queste solo 15 hanno più di 40 anni di esistenza. Quindi le altre sono varietà di pomodoro moderno. Quindi c'è stata anche qui una grande estinzione sulle varietà più antiche che avevamo. Lo stesso si può dire per tutte le altre specie. I peperoni, ad esempio, ne esistevano circa 1200 varietà. In Italia sono commercializzati semi di sole 108 varietà, di cui 77 sono ibridi F1, quindi non riseminabili. E solo 11 di queste varietà sono più vecchie di 30 anni. È stato un vero e proprio taglio col passato. È stato una falcidia. Passiamo alle zucche. Anche delle zucche ne abbiamo una grandissima varietà, perché ne esistono circa un migliaio di varietà conservate dai sit-severi americani. Ne esistono, fra l'altro, per tutti gli usi, nel senso che esistono marmellate, cioè zucche da marmellata, zucche per fare i dolci, zucche anche da alimentazione animale. Purtroppo, nei nostri cataloghi commerciali in Italia, c'è stata anche qui un'estinzione di massa, perché attualmente solo sette sono le varietà tradizionali ancora in vendita. Nel mondo esistono dei centri cosiddetti della biodiversità. Un esploratore russo che si chiamava Vavilov, botanico, in circa 40 anni di viaggi che coprirono ogni parte del pianeta, e in questi viaggi lui ha collezionato oltre 100.000 campioni di piante agricole, bene, lui si è reso conto che esistevano ben sette centri da cui provengono, si può dire, tutte le specie coltivate nel pianeta. Questi sette centri sono uno, ad esempio, nell'America centrale, diciamo il sud del Messico. Da di lì vengono i fagioli, il mais, la papaya, la patata, la zucca, il pomodoro. Cosa è successo? In questi centri lui ha trovato che coesistevano le varietà coltivate con le varietà selvatiche. Quindi i contadini di quelle zone, partendo dalle varietà selvatiche, erano riusciti a selezionare varietà domestiche, varietà coltivate, più produttive, più adatte per l'alimentazione umana, e direi anche più facili da seminare. Ma soprattutto in alcuni casi abbiamo proprio delle vere trasformazioni, in quanto il mais ancestrale ha dei chicchi piccolissimi, delle spighe molto piccole, e quindi gli agricoltori di quelle zone sono riusciti, attraverso dei metodi assolutamente naturali di selezione, a trasformare il mais ancestrale in un mais molto produttivo. Come anche il pomodoro, il pomodoro selvatico ha la consistenza di un ribes come dimensione. E i contadini di questa zona sono riusciti a trasformare questo frutto così piccolo, insignificante, acido, fra l'altro anche ricco di sostanze anti-alimentari come le solanine, in un prodotto commestibile, molto produttivo, con dei frutti molto più pesanti. Quindi c'è stato da parte di questi agricoltori un lavoro importantissimo che ha creato la biodiversità alimentare. E di questi centri, come dicevo, ce ne sono diversi. Adesso sto aprendo mano a mano la diapositiva per mostrarvi tutti questi centri con i loro prodotti tradizionali. Allora abbiamo le Ande, dove ad esempio abbiamo la sede, diciamo così, dell'arachide, ma anche dell'ananas. Pensiamo ad esempio all'Etiopia. L'Etiopia ha... Dall'Etiopia viene il caffè. Tutte le piante, diciamo, tutte le piantagioni di caffè sono il risultato di una varietà solamente che fu esportata dall'Etiopia. Per non dire che questi elenchi sono molto ridotti. Ad esempio l'Etiopia è patria di altri cereali importanti, come non solo il miglio, ma anche il panico, che è una sorta di miglio più piccolo, o addirittura il tef, che è una pianta rivoluzionaria in quanto ha una fotosintesi clorofilliana molto avanzata nel mondo vegetale e quindi in grado di produrre in condizioni di caldo e società estrema con, diciamo, un cereale che ha una quantità molto elevata di proteine e quindi dei componenti nutrizionali di alta qualità. Ma abbiamo anche il Mediterraneo, che chiaramente è la culla del grano, inteso come frumento, ma anche dell'orzo. Abbiamo l'Asia centrale, che ci ha portato, ad esempio, il melone, la lenticchia, ma anche, ad esempio, il fagiolo dall'occhio, un altro fagiolo che preesisteva alla scoperta dell'America e era consumato anche dai tempi, in Italia è consumato fin dai tempi dei Romani. Cosa viene dall'Italia, ad esempio? Perché noi siamo sì immersi nel Mediterraneo, eppure noi non siamo propriamente un centro di biodiversità, in quanto nella nostra penisola appare che solo due piante avessero attecchito prima dell'avvento delle popolazioni etrusche e delle popolazioni italiche. Due piante sono state sicuramente create dall'ambiente naturale e poi riselezionate dall'uomo il carubo e la rucola. Ora, noi siamo, in effetti, in tutto il mondo conosciuti per queste due piante, perché in tutto il mondo possiamo andare e dire vogliamo un piatto di rucola e questo nome è riconosciuto in tutte le lingue. Magari con qualche piccola trasformazione, tipo in francese viene chiamata rocchette, però comunque la base, la denominazione è quella. Il carubo, altrettanto, è una pianta importantissima perché è la base, ad esempio, della preparazione del gelato e il miglior gelato italiano deve al carubo la sua particolare consistenza. Poi sono arrivati, chiaramente, da est delle popolazioni che hanno lentamente colonizzato l'Italia, portando inizialmente, ad esempio, gli etruschi il farro e poi, grazie alle conquiste romane, l'Italia è diventata ricca di ogni forma di biodiversità importata dal resto dell'Europa e dell'Asia. questo che cosa ha creato? Ha creato un effetto secondario, cioè l'Italia, come altri paesi, è diventata fonte secondaria, centro secondario di biodiversità. Cioè la biodiversità arrivata in Italia ha avuto una seconda elaborazione. e qui la grande creatività italiana si è espressa perché, ad esempio, quando Cristoforo Colombo portò per primo i pomodori in Europa il pomodoro venne scambiato come pianta di tipo ricreativo cioè pianta da bellezza, da giardino venne considerata velenosa semplicemente perché chi provò a consumarla sbagliò e si mangiò le foglie. Le foglie sono ricche di solanina quindi creano mal di pancia, dolori e quindi venne subito scartata dal punto di vista alimentare. Ci pensarono i genovesi che da bravi commercianti impararono, prima degli altri, a utilizzare sia il pomodoro che la patata o anche la patata subì più o meno a sorte del pomodoro. Voi pensate che in Inghilterra il pomodoro fu vietato con un'apposita legge del Parlamento il consumo del pomodoro fu vietato e ci volle quasi un secolo e mezzo prima che queste culture sia il pomodoro che la patata si estendessero nuovamente si estendessero per tutta l'Europa. In Italia il pomodoro i primi pomodori che arrivarono sicuramente dal nome stesso furono quelli di colore giallo sono pomodori in cui una particolare variazione del genetica crea piuttosto che il colorante rosso che ha come nome il licopene crea del carotene quindi invece del licopene e del carotene abbiamo quindi dei pomodori di colore giallo-aranciato che sono più dolci chiaramente come lo può essere ad esempio una carota che è altrettanto ricca di carotene sono più dolci e vennero probabilmente poi incrociati con dei pomodori rossi e quindi abbiamo dei pomodori italiani che sono perfetti perché uniscono il sapore dolce con il sapore acido e creano un gusto perfettamente completo quindi noi siamo stati in grado ad esempio di produrre varietà molto apprezzabili di queste ad esempio di pomodoro ma altre verdure diciamo altri ortaggi importanti prodotti dalla nostra cultura possono essere ad esempio le zucchine altri ortaggi di cui possiamo dire che andando in tutto il mondo possiamo chiamarlo zucchino se noi andiamo in un ristorante negli Stati Uniti in un paese in cui si parla inglese chiediamo un piatto di zucchini ci capiscono ma anche i broccoli o i cavolfiori sono stati creati nel nostro paese creati poi e diffusi in tutto il resto del mondo quindi noi abbiamo avuto il privilegio di essere un centro secondario come questi ortaggi sono stati creati e poi diffusi in tutto il pianeta bene abbiamo la storia del peperone di Nardello Antonio Nardello un emigrante e sua moglie nel 1887 partono da uno scuro paese della Basilicata arrivano negli Stati Uniti si portano con sé un piccolo sacchetto con dei semi del loro paese per tre generazioni continuano a coltivarlo arriva l'ultima generazione l'ultimo esponente di questa famiglia che ancora viveva in campagna malato ormai terminale e quindi prossimo alla fine non avendo altri parenti interessati alla coltivazione perché viveva in città cosa ha fatto? chiama un'organizzazione di Seed Saver statunitensi che si chiama Seed Saver Exchange gli affida il seme lo coltivano questa organizzazione lo coltiva lo mette in valutazione quindi a confronto con le altre 3.500 varietà della loro collezione e lo valutano come uno dei migliori in assoluto e oggi questo peperone lo possiamo trovare in vendita in molti distributori di semi biologici degli Stati Uniti quindi questa è la storia di come un peperone che ha diciamo che nasce come ortaggio nel diciamo nell'area in un centro di biodiversità americano arriva in Italia viene perfezionato ritorna negli Stati Uniti e viene e viene valorizzato viene riscoperto ecco quindi come abbiamo sparso la nostra biodiversità nel mondo tutto inizia da un seme ogni volta che noi seminiamo seminiamo un progetto perché il seme contiene dentro di sé dentro la scrittura del suo DNA qualcosa che ha a che fare con un progetto agricolo il progetto della pianta non è sempre facile da capire da spiegare però sicuramente questa frase di Gandhi esprime un concetto molto importante cioè che il fine è nei mezzi come il frutto è nei semi è il totale diciamo opposto del detto machiavellico invece no e in questo caso è nel chicco che troviamo il progetto è il progetto di chi? di chi ha creato questi semi antichi un progetto contadino che è produrre con costanza senza concimi chimici con sapore per l'autoconsumo e per un mercato locale questo in pratica è il progetto che oggi cerchiamo di rigenerare e di ricreare è il progetto in pratica che oggi molti chiamano come chilometro zero gli agricoltori non hanno bisogno di produrre molto hanno però bisogno di produrre con costanza cioè di piante dotate di resistenze o meglio ancora chiamate resilienze e che quindi non hanno alti e bassi produttivi ma ogni anno riescono a conservare una produzione costante riuscire a produrre ad esempio senza concimi chimici è importante perché sono prodotti che vengono dalla petrochimica e quindi senza l'energia dei prodotti petrochimici questi fertilizzanti costeranno di più costeranno molto verranno anche a terminare una volta diciamo finiti finite queste fonte energetiche non rinnovabili quindi abbiamo bisogno di sostituire al più presto semi dipendenti dai prodotti chimici con semi resilienti il sapore è un altro fattore importantissimo e infine produrre per un mercato locale cosa significa? Significa ad esempio non avere un prodotto capace di trasporti lunghi magari più delicato di pelle di buccia magari è più tenero ma anche questi sono dei vantaggi per chi se ne nutre il risultato di tutto ciò è avere delle varietà quindi locali ogni zona avrà la sua varietà e in passato è sempre stato così ogni zona ha la sua varietà adattata al clima al terreno alla stagionalità sono varietà quelle antiche in grado di dare frutti per un periodo più lungo e anche questo è un vantaggio per chi fa ad esempio per gli agricoltori che fanno venta diretta che non hanno bisogno di punte produttive in un periodo ristretto ma hanno bisogno di produzioni costanti e su un lungo periodo per poter essere presenti sul mercato per un diciamo coprendo il periodo più lungo possibile chiaramente la ricchezza di gusto la mancanza di omologazione purtroppo tutte le varietà presenti in commercio vanno a coprire solo alcune tipologie cioè quelle poi vendute dalla grande distribuzione organizzata è un'altra cosa importante è che i prodotti raccolti dalle varietà locali non sono tutti uguali cioè non troveremo mai campi in cui i frutti e le piante sono perfettamente uguali ma ognuna sarà leggermente diversa dall'altra non c'è omologazione il progetto agroindustriale è completamente agli antipodi le sementi sono sempre in vendita quindi non sono più libere mentre le varietà antiche sono tutte riseminabili e quindi i semi non hanno praticamente un costo nel caso dei sementi agroindustriali invece si tratta di sementi tutte ibride quindi non riseminabili sono molto standardizzate sono adatte alle monoculture hanno bisogno per dare produzione di essere affiancate da prodotti chimici le definisco sementi tossicodipendenti perché senza input chimico la loro produzione si abbassa notevolmente da diciamo poter e non sono più convenienti sono adatte chiaramente ai mercati mondiali perché la standardizzazione ha creato praticamente non so la mela globale come può essere ad esempio una Fuji o una Golden ma ha creato anche pomodori globali come non so pomodori ad esempio da salsa che possono essere coltivati in Cina negli Stati Uniti o in Europa e sono sempre la stessa forma lo stesso sapore la stessa consistenza questo chiaramente dà la possibilità di creare anche stoccaggio e guadagno in borsa quindi speculazioni sui cibi un frumento che so io globale come il Manitoba ha un prezzo di mercato e quotato in borsa a Boston un frumento come non so un frumento come il Corasan è una produzione locale italiana difficilmente esportabile perché risponde a delle richieste locali non potrà chiaramente ma essere quotati in borsa il suo prezzo non sarà deciso dalla speculazione infine il capitolo delle royalties e dei brevetti cioè tutte le varietà di sementi agroindustriali sono vincolate da una sorta di brevetto o di patente e quindi devono pagare delle royalties ai loro creatori a chi a chi detiene i diritti su queste sementi che di solito sono le grandi multinazionali chi sono queste grandi compagnie sementiere questo è un elenco delle dieci dei dieci gruppi più importanti nel pianeta in quanto a vendita di sementi agroindustriali è basato su dati del 2006 ma il panorama non è molto cambiato queste dieci compagnie assommano da sole più del 50% del mercato dei semi commerciali qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato nel senso che nel 2011 tre sole compagnie controllano il 53% dei semi queste tre compagnie sono le prime tre dello schema precedente ma la Monsanto è quella che fa chiaramente la parte del leone controllando attualmente circa un quarto di questo mercato di sementi chiaramente questo è dovuto al fatto che c'è stato l'avvento delle sementi OGM che hanno e stanno ormai pervadendo tutto il pianeta tutta la produzione agroindustriale del pianeta purtroppo gli OGM non sono ad esempio contro la fame questo chiaramente è un mito che ci viene propagandato per sostenere l'uso di questi di questi sementi come avete insomma come vi ho mostrato dei due schemi precedenti chi fondamentalmente grazie al sistema delle royalties dei brevetti ne ha dei benefici sono le stesse multinazionali mentre l'umanità continua ad avere il problema di sacche di fame di povertà noi di civiltà contadina io faccio parte di questa organizzazione ne sono attualmente il presidente siamo una situazione che è sparsa un po' su tutto il territorio italiano è una situazione che raggruppa persone appassionate ma anche agricoltori quindi un'associazione diciamo con una componente mista fra aziende agricole e hobbysti siamo un'associazione assolutamente senza finalità di lucro con una componente altissima di volontari cioè di persone che senza diciamo che sì una componente altissima nel senso che non è che noi raggruppiamo persone che ci pagano una tessera per sostenerci quindi non è l'associazione classica che ottiene non so dei finanziamenti dal pubblico e svolge il lavoro al posto del pubblico che le finanzia no tutti coloro che fanno parte di questa associazione si prendono l'onere di custodire almeno una varietà di queste antiche che sono quindi minacciate da estinzione nel loro proprio campo nel loro proprio orto anche se magari un orto di pochi metri quadrati un orto casalingo perché perché l'ideale comunque per ognuno di noi è che ci prendiamo quella piccola fetta di responsabilità nei confronti del pianeta nei confronti della biodiversità e soprattutto ognuno di noi ha l'onere di difendere quella che diciamo quella biodiversità che non è stata generata dalla natura ma da infinite mani e da tante generazioni di agricoltori che hanno raccolto risseminato anno dopo anno semi di grano semi di pomodoro semi di zucca di fagioli eccetera eccetera non comprando mai il semi ma utilizzando quello che è contenuto nei frutti stessi ci siamo dati quindi uno statuto ci siamo promuoviamo frutti di storici promuoviamo una rete di custodi di semi abbiamo un nostro archivio una nostra banca semi e diamo una mano a tutti quegli orti scolastici che ci chiedono aiuto e questo è un manifesto del 2000 ci occupiamo di salvaguardare questi semi che rappresentano in questo momento un affetto importante della libertà personale perché quando tutti i semi saranno in commercio saranno brevettati questi semi saranno in qualche modo se scomparissero questi semi antichi noi ci ritroveremmo a non avere altra libertà personale perché ci ritroveremmo costretti a seminare solo semi commerciali e quindi ibridi e quindi non riproducibili e quindi prigionieri di un mercato abbiamo per questo in collaborazione con il gruppo editoriale Arianna cioè il gruppo editoriale macro e con la etichetta editoriale di Arianna editrice tradotto e quindi portato alle stampe questo manuale che è importantissimo perché purtroppo anche il semplice gesto di salvare dei semi dalla propria coltivazione richiede delle conoscenze per lo più tradizionali che si sono perdute e quindi abbiamo ripristinato un po' di queste conoscenze sotto forma di un testo quindi teorico ma importante perché riempie di consigli su come appunto ottenere dei buoni semi dalle proprie culture però non disgiuntamente anche da dei corsi pratici che vengono svolti ogni anno in estate quest'anno sicuramente questi un paio di questi corsi verranno condotti anche assieme a macro liberarsi nella fattoria dell'autosufficienza e saranno corsi estivi dove proprio materialmente praticamente raccoglieremo i semi dalle piante li setacceremo capiremo anche come non ibridarli perché diciamo che le piante hanno una loro naturale impollinazione e quindi vanno rispettate delle distanze di tutela di cautela in modo che le varietà possano essere mantenute senza che si mescolino siamo una comunità virtuale in quanto essendo che tutti i soci sono sparsi per l'Italia abbiamo bisogno di raggiungerci attraverso newsletter attraverso un sito internet ma dovunque siamo noi cerchiamo di raggrupparci in dei gruppi locali dovunque i soci sono vicini vengono organizzati dei gruppi queste sono le tre azioni principali che ci siamo dati cioè ricercatori custodi di sementi per lo più abbiamo ortaggi nella nostra banca semi abbiamo ortaggi ma anche cereali intesi come frumento farro segale i vari cereali a paglia abbiamo appunto questa arca dei semi che è un progetto che è quello appunto di censire tutte le varietà custodite dai soci di civiltà contadina abbiamo anche adottato una razza animale che è questo pollo ancona un'antica razza ovaio diciamo sviluppata anche quella della cultura italiana i gruppi locali sono importantissimi perché raggruppano soci vicini fra loro e rendono soprattutto possibile uno scambio di semi quindi l'approvvigionamento di semi fra soci perché perché ci si può vedere in faccia ci si può raccontare esperienze ci si può scambiare informazioni su come si coltivano quindi abbiamo una come dire abbiamo costruito una sorta di grande comunità delle sementi e del cibo e speriamo appunto di arricchirla questa chiacchierata così che stiamo cercando di fare tramite video serve proprio per attirare altre persone in queste azioni etiche e far tornare la biodiversità negli orti partendo finalmente da semi non acquistati ma da semi autoriprodotti una forma di autosufficienza che comunque ci rende indipendenti ci rende protagonisti della nostra alimentazione io ora lascerei un po' di spazio anche alle domande non solo di quelli che ci ascoltano ma se ce ne sono anche la parte dei presenti in sala Alberto durante i corsi che organizzi pratici cos'è che si fa effettivamente come si può cioè viene fatto proprio raccolti i semi vengono fatto vedere come si conserva qual è il programma di un corso insomma tutto quello che diciamo non è possibile descrivere in un manuale sono proprio le operazioni manuali stesse cioè quelle è proprio di passare ad esempio non so la manualità ad esempio di gestire un setaccio per pulire il seme da tutte le impurità o addirittura da altri semi presenti nel campo che non so ad esempio quando si si raccoglie che so io un seme di carota o come può essere del semi di grano bisogna togliere gli eventuali semi difestanti oppure tracce di terra oppure anche le stesse come si chiamano i residui degli steli ma ad esempio non so le estrazioni dei semi umidi cioè tipo non so la zucca il pomodoro hanno proprio bisogno di particolari tecniche che possono essere ad esempio la fermentazione che aiuta a togliere le virosi eventualmente presenti nella pianta e poi come conservarli no cioè vedere proprio anche i materiali stessi che si utilizzano per conservare per ad esempio fare le prove di germinazione per vedere che questi semi siano stati raccolti in buono stato quindi tutta una serie di consigli utili ma questi corsi sono anche un po' on tour nella biodiversità perché quando ci si trova insieme si creano proprio delle escursioni in altre aziende agricole per vedere ad esempio non so dei frutteti storici delle degli orti biodiversi gestiti da da altri soci di civiltà contadina quindi sono dei piccoli tour della biodiversità che sono quindi un modo per vedere in pratica come ad esempio non so organizzare delle degli isolamenti in campo un esempio per avere del seme puro di peperone occorre avere un isolamento di almeno 400 metri fra due varietà quindi come fare ad esempio ad ottenere più varietà nello stesso orto e non creare e non creare un'ibridazione naturale voglio dire che poi crea problemi perché ad esempio se abbiamo un peperoncino piccante un peperone dolce l'anno dopo ci diventano tutti piccanti perché il genere del piccante è predominante quindi come proprio nella pratica isolare queste piante e ottenere del seme puro ma sono anche dei ad esempio dei corsi di autosufficienza perché imparare ad esempio ad autocostruirsi dei setacci che sono l'elemento base per la selezione dei semi grazie un'altra cosa volevo chiedere se io ho un orto non ho mai inizio sto iniziando sto partendo adesso voglio iniziare questo lavoro come e dove posso trovare i semi per partire non avendo possibilità di scambiare perché appunto sto iniziando adesso allora noi in città contadina abbiamo questo metodo lo scambio di semi deve essere paritario quindi se uno ha dei semi da offrire poi si li scambia con gli altri arricchisce la propria banca personale ma se uno parte da nuovo allora è l'associazione stessa che ha una banca semi a fornirgli i primi semi per iniziare quindi al socio che arriva innanzitutto gli diamo subito un kit di semi per cominciare quest'anno ad esempio è l'anno del girasole e daremo a tutti i soci che entrano dei semi di girasole di vecchie varietà da mettere nel proprio orto una parte di questi semi poi dovranno ritornare all'associazione assieme a qualche diciamo così valutazione personale da parte del socio però c'è anche appunto la banca semi a cui ogni socio può accedere e può chiedere fino a 5 varietà con l'impegno comunque però di riprodurli infatti infatti è chiaro che non basta solo avere l'abilità di conservare i semi di riprodurli è chiaro che occorre avere anche l'abilità di coltivare ma anche in questo cerchiamo di essere di consulenza perché tramite il sito tramite i gruppi locali si cerca di aiutare le persone anche a approfondire la propria tecnica di artisti tra l'altro io ho capito anche lei è stato uno tra i primi che ha fatto un orto sinergico sì è vero mi sembra nel se non ero nel nel 2008 sì 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 ed è un quello un metodo il metodo sinergico è un metodo che anche quello come dire presuppone l'abilità anche lì di farsi del seme da sé fra l'altro voglio dire è anche un'abilità molto conveniente perché bastano poche piante per avere una scorta di semi che può durare 4-5 anni perché la natura in questo è molto doviziosa generosa e quindi sembra un grosso sforzo ad esempio non so imparare a fare l'impollinazione a mano di una zucca o di una zucchina che è il metodo più facile per ottenere semi puri e però una volta che abbiamo un frutto anche solo uno una zucca piena di semi puri voglio dire ne abbiamo poi per anni dopo chiaramente si tratta anche di imparare insieme come conservare al meglio questi semi per prolungarne la vitalità e automaticamente c'è un'autosufficienza che può durare anni un'altra domanda in previsione avete per caso qualche progetto per i bambini portali proprio sul campo per fargli capire comunque l'importanza del seme della terra perché comunque sono le future generazioni che possono fare la differenza in passato in passato abbiamo promosso insieme alle scuole orti scolastici purtroppo oggi le scuole sono ampiamente sottofinanziate quindi hanno difficoltà spesso a portare avanti queste attività che sono considerate quasi come estra scolastiche sono comunque ogni anno diverse le scuole che si rivolgono a noi per avere almeno un po' di semi antichi da mettere nell'orto e da far coltivare agli studenti purtroppo noi no non abbiamo le forze sufficienti essendo un'associazione di volontariato che si mantiene esclusivamente come diciamo sulle abbiamo una struttura veramente invisibile perché non abbiamo uffici non abbiamo sedi siamo solo una vera associazione di persone e ci sosteniamo non con finanziamenti pubblici non abbiamo mai preso finanziamenti pubblici quindi abbiamo solo l'importo diciamo delle nostre quote associative annuali quindi non abbiamo potenzialità e forze per poter organizzare non so delle azioni a favore della scuola e fondamentalmente comunque non è nemmeno questo l'obiettivo principale cioè siamo di supporto alle scuole che ce lo chiedono però sì ritengo che almeno delle esperienze che ho fatto ritengo che per gli studenti sia una bellissima esperienza quella di avere un orto scolastico e i ragazzini ricordo quando io potevo avevo tempo di organizzarne assieme alla scuola era l'ora della settimana il momento della settimana scolastica preferivano di più rispetto a tutte le altre materie solo perché potevano star fuori all'aperto e fare qualcosa di manuale ma perché il mondo dell'orto rappresenta poi in effetti in piccolo una sorta di pianeta in cui tutte le discipline si uniscono tutte le discipline naturali credo che abbiamo una domanda dal web allora Giuseppe chiede cosa deve fare chi deve contattare una scuola per avere i semi per un piccolo orto di 20 metri quadri affidatogli dal comune è sufficiente che vada sul nostro sito c'è un modulo di contatto contatti la segreteria dell'associazione e volentieri gli forniremo qualche seme adatto allo scopo che si vuole iscrivere a civiltà contadina dice vivendo in città con un piccolo orto personale quali sono i diritti e i doveri da socio verso l'associazione i diritti i doveri no diciamo che l'importante è almeno adottare una una varietà può essere diciamo la più la più semplice o la più complessa non ha non fa differenza voglio dire se uno non è ancora se qualcuno ancora non è in grado di fare non so isolamenti particolari o impollinazioni a mano se anche adotta un caspo di insalata già ha fatto una grande opera insomma pensiamo che un solo caspo di insalata da solo può produrre circa un migliaio di semi un'altra Rosella che ha letto il libro dice parlate di distanze per la salvoguardia della purezza ma perché ha disposizione solo mille metri quadrati che possibilità ha di conservare mille metri quadrati caspita sono una superficie galattica si possono conservare decine di varietà decine anche anche diciamo a stretto contatto fra di loro e bastano dei semplici supporti e un materiale isolante diciamo dagli insetti e si possono ottenere degli ottimi delle grandi quantità di seme anche senza senza bisogno ripeto di particolari attrezzature occorrono invece le conoscenze quelle si e le conoscenze ripeto tramite il manuale tramite il gruppo locale tramite i corsi si apprendono tutte si diventa diciamo l'orto diventa doppiamente etico perché oltre ad essere biologico naturale diventa crogiolo di biodiversità poi se anche una persona e questa è una cosa diversa perché c'è la conservazione dei semi e delle varietà che è importante perché praticamente preserviamo un lavoro svolto dalle sapienti mani del passato abbiamo l'altro aspetto che è quello invece del godimento della biodiversità il che vuol dire se io ho delle buone varietà che so io di melone una pianta particolarmente difficile da isolare bene se ho due tre varietà di melone molto buone le coltivo insieme e poi l'anno dopo dagli stessi frutti vado a riseminare chiaramente si saranno incrociate fra di loro perché gli insetti fanno benissimo questo lavoro otterrò sicuramente degli ottimi meloni maleforme i tempi di maturazione i colori si mescoleranno fra di loro avrò sicuramente un ottimo mescuglio che comunque è ottimo da mangiare e rappresenta poi un successivo diciamo può essere la base per un successivo step che è quello di andare a riselezionare magari la varietà di melone secondo il mio occhio secondo la mia visione ed è comunque per riservare biodiversità perché avere invece come succede nei campi industriali ettari di una sola varietà in monocultura quello è proprio assolutamente un progetto contrario alla alla natura stessa la natura stessa non ha mai concepito un campo di piante tutte uguali quella è la standardizzazione piuttosto voluta dal progetto agroindustriale l'importante è riprodursi i propri semi e diventare autosufficienti e indipendenti rispetto al mercato quindi il mercato può essere magari la prima fonte ma dopo occorre fare il primo step cioè lasciarsi andare e cominciare a a usare i propri grazie Alberto buona serata a tutti grazie grazie grazie